Ciao! Questo è un video sui miei pennelli, ovvero non ho visto da poco che l'ha fatto sia Agatha che Jessica dei russiatati e parlando sotto il video di Jessica, le dicevo insomma che io ne ho diversi di pennelli e lei mi ha detto aspetto il tuo video, quindi oggi ho tempo e ho deciso di girare il video lo dividerò in due, farò una parte per i pennelli occhi che utilizzo io e una parte per i pennelli viso parto a farvi vedere i pennelli viso, quelli che utilizzo e principalmente quelli per il correttore noterete subito che non tutti sono puliti infatti e il pennello viso che prima utilizzavo principalmente per stendere il correttore è questo qui, il Flawless Concealer Brush di ELF questo lo utilizzavo sempre per stendere il correttore ma adesso siccome mi trovo molto bene con altri pennelli meglio di questo per stendere il correttore questo lo utilizzo per applicare la cipria proprio sulla zona del contorno occhi perché diciamo che la preleva bene ma non ne preleva una grandissima quantità quindi di conseguenza non va comunque a segnarmi troppo il contorno occhi per stendere il correttore in assoluto il mio preferito che è tutto bagnato perché l'ho lavato per l'occasione è questo di neve, lo Sky Corrector questo qui ed è questo fatto così questo è il mio preferito perché sembra più un pennello diciamo grande da sfumatura e quindi non va anche se io faccio questo tipo di movimento non va a portare via il prodotto ma lo stende senza però andare anche lui comunque a segnare la zona altrimenti gli altri due che utilizzo che dipende dal correttore che uso perché se è un correttore molto leggero utilizzo questi due o altrimenti questo mi piace con qualsiasi tipo di correttore per i correttori quelli più leggeri che quindi non mi danno grandissima coprenza ma hanno bisogno comunque di essere tamponati o utilizzo questo qui di Wicon che non so se ha un numero però è questo qui piccolino tagliato così tagliato in diagonale eccolo qui oppure questo qui che è della marca HK questo e questo io l'ho acquistato al CAD all'incirca sui 6 euro è un pennello praticamente molto fitto e con le setole diciamo abbastanza rigide come vedete non è come questo che adesso è bagnato però nonostante è bagnato se io muovo le setole si vede che comunque è molto morbido questo invece ha le setole molto molto rigide e questi due mi aiutano per stendere diciamo i correttori quelli che sono meno coprenti e anziché fare il movimento di strisciare insomma vado a tamponare poi questo qui questo qui il setting brush della Real Techniques della Real Techniques è multiuso perché se ho questo sporco e lo devo lavare lo utilizzo per stendere il correttore perché comunque è molto morbido anche questo fa nel senso già sfuma da solo il prodotto una volta che viene steso e ecco se ho questo sporco uso questo oppure lo uso per stendere l'illuminante ma devo dire che preferisco stenderlo con le dita l'illuminante però altrimenti utilizzo questo è un pennello morbidissimo veramente l'ho lavato tante 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 volte da quando ce l'ho non ha perso mai in setole né colore e io l'avevo preso sul sito di Makillalia mi sembra sui 6 euro non vorrei dire una cavolata però mi sembra sui 6 euro poi quello è l'unico pennello che ho per l'illuminante perché l'ho già detto preferisco stenderlo con le dita per stendere il fondotinta ne ho diversi il mio preferito in assoluto che mi piace con qualsiasi tipo di prodotto che sia in polvere che sia in crema che sia liquido meno coprente più coprente è questo qui è l'expert face brush di Real Techniques eccolo qui e come vedete è sporco perché l'ho utilizzato anche oggi questo è un pennello fantastico non lascia striature vi stende veramente benissimo tutto ciò che dovete mettere sul viso non lascia mai segni è sempre uniforme e riesce a dare una coprenza maggiore anche a quei prodotti che sono meno coprenti perché se voi comunque andate a picchiettare il prodotto con questo qui lo stende veramente molto bene sopra all'imperfezione anche lì non lascia comunque segni quindi questo è il mio preferito poi ne ho altri ho questo ho questo di H&M che si è cancellato no la scritta c'è questo qui per le BB cream che comunque mi piace mi piace molto e quando ho questo a lavare utilizzo questo qui anche perché io non utilizzo fondotinta molto pesanti ecco adesso sto utilizzando quello della Pupa nel fine settimana quello della Pupa liquido preso con il coupon che si dovrebbe chiamare Like a Doll se non sbaglio però per esempio quello preferisco stenderlo con le mani altrimenti io uso questo per tutte le BB cream che ho perché principalmente io utilizzo BB cream non sopporto prodotti troppo pesanti sul viso ho questo io ho anche questo qui che ho fatto diciamo nello stesso identico modo di questo solo che questo è più piccolo questa è la linea pro si si trova io lo trovo al tigotà è una linea che si chiama pro c'è scritto pro professional se non sbaglio e questo l'ho pagato o 5 o 6 euro anche questo è molto comodo e l'ho utilizzato alcune volte anche per stendere il correttore e non è male nemmeno questo poi altrimenti ho questo qui il pointed foundation brush di ELF che forse non lo so usare io ma per me è una cosa inutile perché non cioè lo trovo utile magari se devo andare a stendere il correttore o devo sfumare il correttore qui ai lati del naso ma per tutto il viso non trovo l'utilità di questo ditemi voi se ce l'avete come lo usate oppure prima utilizzavo molto di più per il fondotinta ora lo utilizzo principalmente per la cipria è il powder brush di ELF questo qui prima lo utilizzavo molto per stendere il fondotinta ora lo utilizzo principalmente per la cipria perché mi ci trovo molto molto meglio e questo per esempio lo utilizzo anche per stendere quando ho utilizzato il flat perfection di neve utilizzavo questo per stenderlo perché bastava praticamente sulla cialda fare così e poi questo prelevava la giusta quantità comunque per poi stenderlo sul viso quelli per la cipria nei quali mi trovo meglio sono questo qui di un set che non ha nome che ho preso su Aliexpress questo set è composto da 5 pennelli viso e l'ho pagato sui 3,40 euro questo è morbidissimo come vedete ed è praticamente fatto simile a powder brush di ELF però questo ha le setole diciamo più compatte e più rigide questo invece ha le setole più meno rigide diciamo più morbide ma la sezione comunque è molto simile questo è più piccolo però è lo stesso genere e io questo mi trovo benissimo per stendere la cipria altrimenti utilizzo questo qui di Deborah che credo di averlo preso in un outlet penso a Valdichiana in una profumeria ed è questo qui dovrei averlo pagato sui 3 euro e anche questo è morbidissimo l'ho lavato tante tante volte però passato sulla cipria la preleva molto bene e riesco a stenderla veramente bene con questo l'altro pennello fa parte sempre del set preso da AliExpress ed è questo qui questo è fatto diverso rispetto a questo cioè questo è più bombato non so come spiegarmi diciamo che è più rotondo ed è praticamente più bombato sembra quasi a punta ora non mi viene la parola però ed ecco anche questo ha le setole morbidissime e non sono comunque rigidissime quindi mi permette di stendere la giusta quantità di cipria l'altro che mi piace molto anche questo per la cipria scusate suona il telefono stavo dicendo un altro pennello che mi piace molto per la cipria è questo qui di Royal Beauty perché anche questo è abbastanza grande però ha le setole molto morbide e anche questo stende la giusta quantità di cipria questi pennelli di Royal Beauty quelli per il viso vengono sui 5 6 euro credo quelli per gli occhi sui 2 3 euro questo qui un altro pennello che mi sono scordata sempre per stendere la BB cream è questo qui di Kiko che non mi ricordo di che collezione è io l'ho preso quando l'hanno messo a 5 euro o 8 5 euro non mi ricordo ma sinceramente a me non mi fa impazzire con nessun tipo né con fondotinta né con BB cream forse lo preferisco con diciamo le BB cream quelle proprio molto molto liquide e con questo riesco a dare diciamo a stenderle bene senza lasciare segni o striature però non è che mi faccia impazzire particolarmente per stendere il blush ne ho diversi di pennelli quello che utilizzo diciamo maggiormente per quello che utilizzo maggiormente per i blush più pigmentati quelli più scriventi è questo qui sempre il set preso su aliexpress che è fatto diciamo simile molto alla lontana blush brush di real techniques ed è questo qui è fatto praticamente molto a fusolato così a punta e questo qui questa è la sezione e con praticamente i blush quelli più scriventi utilizzo questo per non fare macchia ma sicuramente uno di quelli che mi piace di più ma si vede che è anche sporco è sempre questo di questo set preso su aliexpress perché anche questo stende il blush e lo sfuma diciamo allo stesso tempo perché ha la sezione così tagliata anche questo obliqua però non è tagliata di netto e ha sempre comunque le setole molto morbide e non sono fittissime quindi sfuma bene comunque il prodotto mentre lo applica un altro che mi piace molto per il blush ma che ultimamente sto utilizzando meno è il blush brush di elf questo qui lo sto utilizzando meno perché avendo diversi pennelli trovo che con questo devo fare più passate per avere diciamo per avere la stesura del blush come la voglio io quindi al momento lo sto utilizzando meno invece uno di quelli che ce l'ho da tantissimo tempo e mi continua comunque a piacere è questo qui sempre nella linea pro professional quella che compro da Tigotà e questo mi sembra che costa sui 4,50 euro è semplicissimo fatto così però questo mi fa stendere il blush veramente bene anche questo lavato tante e tante volte non ha mai perso setole poi un altro pennello che utilizzo sempre per i blush quelli più pigmentati è questo qui della Liabel questo l'ho preso al Mauriz per 99 centesimi però non mi ha perso setole non mi ha perso colore nonostante l'abbia lavato diverse volte ed è fatto praticamente è un pennello semplicissimo però alle setole proprio non sono per niente fitte e sono così molto morbide quindi con i blush più pigmentati mi da la possibilità di applicarlo e sfumarlo allo stesso tempo e questi ne ho due perché l'ho pagato solo 99 centesimi gli ultimi due che sono arrivati da pochissimo per il blush ma che vedrete sono utilizzati uno l'ho lavato da poco uno lo devo lavare sono questi due pennelli di vanity tools che io l'ho preso in offerta su machillalia con il 3x2 quando hanno fatto le offerte mi sembra per black friday credo uno è questo qui e io lo utilizzo questo con i blush invece meno pigmentati perché è fittissimo come vedete è molto molto fitto e applica veramente bene il blush l'ho utilizzato anche oggi per stenderlo e mi piace tantissimo perché è morbidissimo ho lavato anche questo diverse volte non ha perso setole non ha perso peli non ha perso colore niente è perfetto e l'altro che è sempre di vanity tools però purtroppo loro non scrivono i numeri è questo qui che è praticamente fatto come questo e anche questo è molto morbido ha le setole comunque non so se notate ma sono più fitte rispetto a quel che vedete questo questo ce l'ha meno fitte questo sono più fitte e anche questo mi permette di stendere il blush e sfumarlo allo stesso tempo quindi mi piace tantissimo poi passando alla terra ne ho uno due tre e quattro credo ne ho uno che ve lo devo far vedere perché ve lo devo sconsigliare è l'unico pennello di royal beauty che a me non piace ed è questo qui questo pennello se voi lo utilizzate praticamente vi ritrovate piene di peli neri sul viso perché perde setole io l'ho lavato solo due volte e dopo la prima volta che l'ho lavato l'ho utilizzato sono andata a fare così per stendere la terra ero piena di penne neri qui poi l'ho rilavato ma continua comunque a perdere peli durante l'applicazione quindi assolutamente è il più economico di quelli della royal beauty per il viso però non vale la pena per stendere la terra io ho questo di neve cosmetics il magenta sculpt questo qui che io utilizzo principalmente ecco niente io utilizzo principalmente per diciamo prelevo la terra e do tipo un un disegno netto qui e poi con uno dei pennelli comunque puliti di questi da blush vado poi a sfumare il tutto e mi ci trovo molto bene solo che secondo me questo deve essere usato per le terre che non sono molto pigmentate perché essendo così compatto comunque vi praticamente rilascia comunque molto prodotto quindi secondo me va utilizzato con i prodotti che non sono molto molto pigmentati un pennello con il quale mi trovo benissimo e vedrete anche sporco perché lo sto utilizzando molto è lo small tapered brush questo qui sempre di elf questo io lo trovo perfetto per andare qui proprio della forma perfetta è così è fatto così e comunque l'applica e la sfuma allo stesso tempo perché come vedete le setole non sono molto fitte ha questa forma particolare però io lo trovo molto comodo e gli ultimi due in mano i pennelli le setole del pennello di royal beauty sono questo qui della kirby che questa è stata una scoperta perché l'ho pagato un euro nei cestoni della profumeria all sense non so come si dice ed è questo pennello fatto così è angolato ma ha le setole praticamente e non sono per niente fitte quindi anche per una come me che non è in grado di fare contouring ma che ci prova questo è l'ideale perché vi permette di stendere il prodotto e nello stesso tempo ne rilascia una quantità esagerata quindi è come se lo va a sfumare allo stesso tempo ed è questo qui un altro che mi piace comunque è fatto allo stesso modo questo però non so quanto costa perché me l'aveva regalato mia madre che l'aveva comprato in una campagna Avon è questo pennello qui di Avon che è fatto così ha delle setole fuori posto ma ci è arrivato tipo con questa qui ora non so se la vedete questa qui però ci è già arrivato così ma allo stesso tempo non ha perso setole non ha perso colore niente è morbidissimo e anche questo cioè praticamente è fatto nella stessa maniera di questo qui e mi trovo bene anche con questo perché sempre per lo stesso motivo che non so fare contouring ma ci provo e utilizzo praticamente questo qui in questo modo così mi applica il prodotto ma allo stesso tempo me lo sfuma e niente ragazzi questo è tutto ora registro la parte dei pennelli occhi ciao 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 ciao